6, 3, 2, 1 E vado Che dire, è stata ancora una volta la dimostrazione che abbiamo l'appelaccia d'ora Anche sotto di 5, 6, 2 minuti dalla fine non muoriamo mai Non muoriamo mai perché ci stringiamo E quando vogliamo difendere difendiamo Perché la cammita è ovviamente difesa I due minuti non hanno fatto un tiro facile Ci siamo usati tutti all'imbalzo Abbiamo fatto cose e cose di intensità e di carattere Questa squadra ne ha più tanto E quindi questa vittoria è il coronamento di tutto Di 40 minuti a Crepe Non c'è tempo di esultare troppo Perché i playoff sono così Siamo sul 2-0, sì, però non è finita Non è assolutamente finita Verona, comunque Verona, sono grossi c'erano oggi Sapevamo che anche loro avrebbero approcciato la partita in maniera diversa Avrebbero avuto molte più energie nelle gambe E siamo partiti non benissimo Perché loro proprio hanno sentito Un'altra storia rispetto all'Audo Poi per fortuna siamo entrati a ritmo in difesa Perché in attacco nonostante abbiamo creato ottimi tiri E avverti di tutti Oggi non potevamo fare conto su delle buone facettuali Quindi ci siamo detti E finiamo la prossima casa Perché questa è la nostra E con questo pubblico non possiamo perdere La chiave Stefano, il terzo tempo, il terzo quarto Dove a un certo punto avete fatto proprio la netta differenza? È stato un bel parziale Dove abbiamo preso fiducia Dove siamo riusciti a concretizzare anche a livello di canestri Il lavoro che abbiamo fatto in difesa E poi, ti ripeto, non è mai facile Perché loro sono lì e non morono mai Ma noi abbiamo la testa dura, abbiamo la pelle dura E abbiamo ancora dimostrato che non molliamo mai Quindi andiamo a Verona con la consapevolezza che non sarà facile per loro Ma non sarà facile neanche per noi Ma magari la gente può pensare sul 2-0 Vanno lì rilassati Io non so Io proverai a chiuderva subito La voglia c'è E lo scolatoio sarà convinto fin dalla gara 1 che ce la possa fare Quindi andiamo a Verona con le idee chiare Sapendo che dobbiamo sistemare due cose Non dobbiamo approcciarci come il nostro 2-4 oggi Perché là, come è successo durante la stagione Se per un certo tipo di approccio Ho seguito almeno 12-1-14 E poi almeno 14-1-14 è molto lungo per il tempo Però non ci vediamo Non mi va di nascondolo Proprio con serenità Ci proviamo Sappiamo che è un campo difficile Però siamo lì con la testa È davvero Abbiamo celja Ci proviamo Mi c'è